Si apre domani mattina all'Aquila il processo d'appello sul disastro dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017. Una tragedia che costò la vita a 29 persone. In primo grado, nel processo con rito abbreviato che si è celebrato a Pescara, il Gup Gianluca Sarandrea ha assolto 25 dei 30 imputati, infliggendo pene piuttosto miti ai 5 condannati. Due anni e otto mesi al sindaco Ilario Lacchetta e tre anni e quattro mesi ciascuno agli esponenti della provincia Paolo Dincecco e Mauro Di Blasio per reati riguardanti il disastro. Sei mesi al gestore del resort Bruno Di Tommaso e al tecnico Giuseppe Gatto per abusi ed edilizi. L'obiettivo della procura, che invece aveva chiesto 26 condanni a 151 anni di carcere in totale, sarà dunque quello di ribaltare il giudizio di primo grado. In aula, a rappresentare l'accusa, ci saranno i PM Anna Benigni e Andrea Papalia, che per l'occasione sono stati applicati all'Aquila. L'udienza di domani, che avrà inizio alle 9 con la Costituzione delle parti, sarà caratterizzata dalla relazione del Presidente della Corte, Aldo Manfredi, che ripercorrerà sinteticamente i fatti al centro del processo e dagli interventi dei due PM. La procura sosterrà che l'hotel non avrebbe dovuto sorgere in un luogo a rischio e quindi porrà l'accento sulle responsabilità per la mancata realizzazione della carta valanghe che avrebbe impedito la realizzazione della struttura o quantomeno ne avrebbe scongiurato l'apertura invernale. E poi punterà il dito sulle presunte negligenze nella gestione dell'emergenza maltempo di quei giorni, sulla mancata pulizia della strada che impedì alle vittime di lasciare il resort e sul presunto depistaggio che sarebbe avvenuto in prefettura. Una lunga catena di errori, sottovalutazioni e omissioni che, e la tesi dell'accusa, avrebbe determinato il disastro dell'hotel Rigopiano. Nel complesso sono previste 11 udienze. Dopo quella di domani si tornerà in aula il 13 dicembre, mentre la lettura della sentenza è prevista per il 9 febbraio.